Come scegliere l'università giusta spiegato da una che ha cambiato molte volte idea Meno che non abbiate già un'idea iper precisa che vi consiglio comunque di provare a confutare perché ero decisissima poi ho dovuto rivedere le mie convinzioni Andiamo sui siti delle università che ci interessano Consultiamo i programmi di studio delle facoltà che ci piacciono di più È molto utile consultare anche il programma dei singoli corsi vedere sia la mole di studio richiesta che l'obiettivo formativo di ciascun corso Magari ci piace l'idea di poter fare i medici ma consultare i programmi dei sei anni di medicina con esami di chimica, fisica, matematica si rivela per noi una realtà totalmente aberrante L'università non sarà sempre facile Ci saranno momenti in cui dovrete stare fino alle due, tre di notte a studiare Quali sono le materie per cui fareste questa cosa? Compassione Nella risposta a questa domanda che potrete trovare un grande aiuto per voi Parlate con le persone che frequentano l'Ateneo Partecipate effettivamente alle lezioni se sono atenei pubblici Informatevi sulle opportunità che offre il vostro corso a livello di stage curricolari, Erasmus Stilate una lista di pro e contro e poi scegliete anche grazie al vostro cuore